ciao a tutte e a tutti dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi ho passato delle brutte giornate ma sono guarito ce l'ho fatta innanzitutto grazie a tutti gli operatori della sanità della asl dello spallanzani con i quali sono stato in contatto telefonico in questi giorni a chi mi è stato vicino a cominciare dalla mia famiglia il mio primo pensiero va ai deceduti a coloro che non ce l'hanno fatta e alle loro famiglie che stanno soffrendo per questo momento drammatico e ovviamente a tutti coloro che sono in cura ogni assistenza domiciliare o negli ospedali italiani il mondo sta vivendo un dramma che non ha uguali nella storia moderna e questo dobbiamo saperlo e l'italia non dimentichiamocelo mai è stata la prima democrazia occidentale a dover affrontare questa situazione con scelte molto radicali spesso per la prima volta dal dopoguerra ad oggi alcuni ci prendevano in giro ora stanno copiando le indicazioni che abbiamo poi noi sperimentato un po da apripista come avevo detto in queste settimane ho seguito per quello che ho potuto sia le vicende politiche che quelle amministrative che riguardano la mia regione e voglio ringraziare il gruppo dirigente del pd a cominciare da andrea orlando e la squadra della regione con il vice presidente leodori e tutte e tutti coloro che hanno dato una mano per garantire una presenza delle istituzioni in un momento così difficile tra un paio di giorni tornerò operativo al cento per cento al lavoro per essere anch'io assolutamente in prima fila e dare una mano alla mia comunità a livello regionale e italiana c'è bisogno di tutti e di tutte c'è bisogno di dialogo c'è bisogno di cooperazione e ora c'è bisogno di grande concretezza c'è bisogno di una maggioranza coesa e di un'opposizione che io ringrazio per aver dimostrato volontà di dialogo e di collaborazione perché ora c'è un grande bisogno di unità per superare questo momento nessuno si aspetti la bacchetta magica o si aspetti l'uomo la donna che all'improvviso risolverà tutto se c'è una cosa che questo virus ci ha confermato e che le soluzioni si trovano nei comportamenti responsabili corretti di ciascuno di noi di tutte e di tutti ognuno dunque faccia al meglio quello che può fare per sé e per gli altri e vedrete ce la faremo e la seconda cosa che in qualche modo questa vicenda del virus ci ha confermato è che tutte e tutti abbiamo bisogno degli altri quello che accade a milano condiziona quello che accade a palermo e viceversa quello che succede in francia condiziona quello che accade in germania in italia o perfino in altri paesi del mondo in altri continenti ora dunque uniti dobbiamo sconfiggere questa bestia aiutando le persone aiutando le famiglie sostenendo le imprese e da subito dobbiamo cominciare a immaginare insieme io dico l'italia che verrà perché questo anche aiuta a superare questa fase difficile ci vediamo dunque presto per continuare questa battaglia e riprendere a ricostruire questo nostro bellissimo paese ciao a presto